Le fonti advisory update, eccoci qui con uno dei nostri approfondimenti odierni che ci porta al mondo cripto per fare un po' il punto della situazione sul mondo delle criptovalute a partire naturalmente dalle notizie di attualità che poi si legano al mondo dei mercati in generale. Intanto io saluto Valerio Rossi, informatore e divulgatore digitale, che è con me per questa parte di diretta. Ciao Valerio, bentrovato. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Grazie a te. Allora, cominciamo a vedere intanto il grafico del Bitcoin, il grafico daily che ci mostra un Bitcoin che in questo momento è in crescita dell'1,98% sul dollaro ed è a 37.710 dollari. Questa è la quotazione in tempo reale e leghiamo e ti do subito un primo spunto, poi naturalmente ampliamo e entriamo un po' più nel dettaglio. Un primo spunto che è il seguente, un po' una domanda anche provocatoria se vogliamo Valerio, però passamela. Vorrei partire da questo dilemma, a me piacciono i dilemma perché ci fanno capire tante cose a volte. Il Bitcoin, a conti fatti, è quello che si stanno chiedendo moltissime persone, è sinonimo di rischio o protezione? Mi spiego meglio. Protezione, perché protezione? Perché spesso è stato associato all'oro, al ruolo del bene rifugio che ha l'oro, notoriamente il gold. Però adesso sembrerebbe quasi che sia invece associato al rischio perché con i mercati che stanno un po' traballando e soprattutto anche con le decisioni di politica monetaria delle banche centrali che potrebbero naturalmente inasprire e allentare la presa rispetto agli aiuti che hanno sempre dato i mercati fino adesso, sembra quasi che gli investitori scappino dal mondo, parliamo del Bitcoin, poi allarghiamo al resto delle cripto e delle principali. Quindi rischio o protezione? Partiamo da qui Valerio, insomma inizia tu il discorso da dove credi? Ma sicuramente sai che io sono ovviamente un sostenitore di Bitcoin per cui ovviamente prediligo la prima soluzione che è quella della protezione. Prima di tutto perché non è solo una mia opinione ovviamente ma è stato mai riconosciuto dalle principali autorità americane, rappele a riserva piuttosto che la secca, che trattasi di asset digitale, quindi parliamo sempre comunque di un valore economico, quindi di un asset che è stato riconosciuto anche dalle autorità, che chiaramente non è che lo vedono proprio di buon occhio perché evidentemente il concetto di Bitcoin in particolare rispetto alle altre criptovalute è per eccellenza la libertà finanziaria, cioè il fatto ovviamente che essendo decentralizzata autenticamente perché dietro a Bitcoin ci siamo noi, in sostanza gli utenti o comunque coloro che intendono diversificare o semplicemente mantenere una parte dei loro denari in Bitcoin, hanno questa possibilità ovviamente di avere quello che io ritengo sia il valore economico per eccellenza e il futuro in senso assoluto sia dal punto di vista di scambio come mezzo di pagamento ma anche come asset che può avere una rivalutazione nel tempo assolutamente interessante. Ok, ok, quindi insomma protezione. E perché? Quindi ti pongo subito la prima domanda che poi vediamo anche in grafica. C'è stato questo crollo in questi giorni, parliamo ovviamente dei giorni vicini a noi. Poi parliamo delle previsioni future perché poi un crollo non è detto che debba proseguire, però parliamo di quello che è accaduto Valerio. Ecco, come dicevamo anche nelle precedenti interviste, il Bitcoin è stato dato per morto, siamo arrivati a 441 volte. Sì, 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 in cui si sono celebrati idealmente i suoi funerali. Questo mi aveva colpito molto pur sapendo che effettivamente il funerale del Bitcoin fosse stato celebrato da molti per più volte, però oltre 400 volte insomma è un numero importante. Non è andata così e su questo ci siamo, quindi il fatto che il Bitcoin sia comunque riconosciuto dagli investitori è una cosa assodata, Valerio, se no sarebbe già, diciamoci la verità, no? Se no sarebbe già evaporato nel nulla. Esatto, esatto. Però al di là del fatto che il mondo delle cripto, del Bitcoin, è caratterizzato da volatilità, quindi lo sappiamo, insomma il trend quindi può variare a seconda di ciò che accade, ma perché a volte assistiamo? Dopo peraltro periodi anche di estremo rialzo in cui, come dire, si era ipotizzato anche l'arrivo ai 100 mila dollari, insomma, si assistono invece a queste cadute? Sicuramente ci sono, il Bitcoin ormai ci ha abituato a questa alta lena, a questo volante, come ho detto in altre circostanze, che spaventa naturalmente il risparmiatore non accorto e soprattutto che non ha le conoscenze adeguate per comprendere che dietro questi movimenti ci sono interessi veramente importanti, soprattutto delle grandi istituzioni americane, delle banche d'affari, di coloro che ovviamente si sono approcciati a Bitcoin in maniera importante. Ti do per esempio un dato veramente importante. Abbiamo parlato ancora una volta di MicroStrategy, che è un'importante azienda americana quotata anche al Nasdaq, il quale in questo ultimo periodo di ribasso e di chiaramente ritracciamento, chiamiamola così dal punto di vista tecnico, ha acquistato ancora e ha aumentato la propria esposizione, chiamiamola così, in Bitcoin e siamo arrivati a 4,5 miliardi di dollari che MicroStrategy ha acquistato in Bitcoin e li ha ovviamente a bilancio. La domanda che io ovviamente provocatoria faccio agli ascoltatori, secondo voi un'azienda così importante quotata al Nasdaq, si mette a acquistare 4,5 miliardi di Bitcoin, se non ritiene abbia fatta le opportune valutazioni e chiaramente informazioni, che questo tipo di asset digitale possa avere un concreto futuro e anche ovviamente un apprezzamento in termini economici, perché non sono certo dei benefattori, non è un euro a un lusso, voglio dire, no? Certo. Chiaro? Ecco, questo è il mio pensiero, insomma. Su quello sicuramente c'è un messaggio anche interessante e poi cerco di ritrovarne un altro che mi avevano mandato, perché appunto in questi giorni molti hanno chiesto di parlare del Bitcoin proprio per questo motivo a partire dal tema rischio-protezione, ecco, rischio-rendimento che poi fa parte un po' della base degli investimenti. Un amico scrive, il Bitcoin sta seguendo l'andamento dell'S&P 500, poi mi dirai tu se sei d'accordo Valerio, e poi lui dice altro che protezione, cioè quindi insomma vediamo un po' la divisione tra chi pensa che il Bitcoin sia rischioso e invece chi pensa che possa essere un bene rifugio, insomma bene rifugio prendiamolo con le pinze. Bisognerebbe fare un grafico comparativo tra i due, comunque al di là del grafico che magari poi faremo, questo è interessante, quindi grazie per lo spunto, ma sei d'accordo con quello che dice? Cioè quindi se noi paragoniamo in questo momento l'andamento del Bitcoin, anzi guardiamolo, scusami, al di là del fatto che si possano mettere uno, questo è il grafico del Bitcoin, guardate, no? Quindi, e adesso andiamo a prendere il grafico dell'S&P 500 e lo vediamo, eccolo qui. Beh, cosa ne dici Valerio? Beh, come possiamo vedere così come anche la colorazione aiuta ovviamente il telespettatore a comprendere che l'andamento è simile ma non esattamente uguale. No, infatti adesso io le mostro uno e uno, mentre tu ci parli così li vediamo, ok. Vediamo per esempio che lo Standard & Poor's ha avuto delle candele molto, molto importanti e continue, almeno per un certo periodo ovviamente della quotazione, vedete per esempio, che sono molto profonde, no? Rispetto ovviamente a, adesso bisogna le vedere in percentuale per fare una comparazione corretta. Comunque evidentemente tutti i mercati sono collegati, no? Perché naturalmente quando viene così chiusa un'operazione o comunque gli investitori escono da uno strumento finanziario per passare a uno magari possibilmente o probabilmente più interessante e più profittevole, è evidente che la cosa abbia una correlazione, perché diciamo che tutto sommato quello che lega un po' tutti i mercati finanziari è la fiducia, la famosa fear index, no? C'è proprio un indice specifico anche per esempio su Bitcoin, quello che è diciamo la paura oppure l'atteggiamento prudente o anche diciamo prendi scappa e fuggi, no? Come purtroppo succede per molti investitori che fanno speculatori aggressivi e che comporta, come abbiamo detto più volte, un rischio notevole, perché la speculazione, soprattutto quella breve, intraday, quella settimanale, ovviamente avendo un'ottica temporale più ristretta è evidente che ha un grado di rischio più elevato. Alle volte ovviamente può essere anche un grado di profitto elevato, però diciamo che la velocità in cui si ritraccia diciamo un prezzo sui mercati finanziari solitamente è molto più intenso, è molto più veloce rispetto alla fase rialzista, quindi è più facile andare short parlando tecnicamente che long. Ok, ok. Invece guarda, ho trovato questo grafico che mostra invece il rapporto che c'è tra il Bitcoin, caro Valerio, e il treasury americano, quindi il decennale americano. Questo cosa dimostra secondo te? Perché poi, no, sappiamo, obbligazioni, il fatto di dare protezione, mi sembra che invece qui si dimostri, no, sto sbagliando, che invece il Bitcoin potrebbe garantire questo? Assolutamente. Eh, infatti, questa è una cosa, è un'altra comparazione interessante, prego. Allora, ci sono due aspetti importanti da valutare. Il primo è ovviamente il prossimo aumento dei tassi che la Fed ha già annunciato, e quindi interessa appunto il treasury americano, e soprattutto anche l'aspetto inflattivo. L'inflazione ovviamente è una perdita di potere e quindi notoriamente in questi periodi di aumento dell'inflazione, pensiamo che ovviamente l'anno scorso negli Stati Uniti siamo arrivati a oltre il 6%, e quindi chiaramente è un segnale che dà ovviamente preoccupazione agli investitori che cercano i cosiddetti, come dicevi tu prima, beni rifugio. Possono essere loro, piuttosto che in questo caso anche il Bitcoin, perché è stato più volte affermato che si trattasi di asse digitale in alternativa o comunque in comparazione a quello che può essere il famoso metallo giallo che conosciamo da tantissimi anni e che comunque mantiene sempre un prezzo abbastanza costante. Viaggia tra i 1740 e i 1820, siamo sempre lì, no? Non è che si sposta tanto. Vabbè, è conservativo sicuramente, però altrettanto se uno impara in maniera corretta cos'è il Bitcoin, lo guarda con un'ottica di medio e lungo periodo, quindi questi periodi anche di grandi movimenti in un senso e nell'altro. Pensiamo per esempio che il Bitcoin è sceso di oltre il 50% del record di novembre, più o meno. Quanto? Scusami Valerio, perdonami, ripeti la percentuale? Allora, cede circa il 50%, adesso ha ripreso, tra ieri e oggi ha ripreso quasi un 10%. Sì, sì, sì. Però diciamo facciamo anche un 40%, diciamo è una percentuale che può spaventare ovviamente i meno esperti. Ecco, io avevo questa percentuale, forse tu in un periodo hai preso qualche giorno in più, in pochi giorni ha perso il 21% del suo valore. Sì. È corretto? Ok. Ecco, dicevi, giustamente può spaventare, ma infatti è la domanda che ti stavo facendo io, no? Questo, quanto stavi dicendo, tu prima hai detto, ci ha abituato, no? Il Bitcoin a questa estrema volatilità. Ecco, sembra quasi, e questa è la mia domanda che però si ricollega a quanto stavi dicendo, che non ci dia modo il Bitcoin, che non si faccia questo salto, non ci dia modo di capire che bisogna evidentemente inquadrarlo in altro modo, no? Perché chiaramente la paura regnerà sempre sovrana, se si guarda l'andamento quotidiano, insomma quotidiano magari no, però nel giro di breve, di un breve periodo del Bitcoin, ecco. No, ecco, consideriamo sempre, diciamo, la storia di Bitcoin, perché guardiamo ovviamente l'oggi e l'altro ieri e ci dimentichiamo ovviamente della storia da quando è nato il Bitcoin, no? Volevo ricordare, chi non lo sa, ovviamente che quando è stato quotato la prima volta a 3 gennaio del 2009 valeva 10 centesimi. Adesso, per carità, possiamo fare tutte le considerazioni del caso. Però evidentemente, chi, cioè, sarebbe bello poter intervistare a 3 il CEO di MicroStrategy, Michael Saylor, e sentire cosa ne pensa lui, visto che ci ha messo letto 4 miliardi e mezzo. No, no, eh, beh, certo, certo, per capire, insomma, esatto. Obiettivamente, voglio dire, se una persona non ci mette qualche soldino, come possiamo fare noi, ma ci mette dietro qualche miliardo, non neanche milione, qualche miliardo di dollari, sicuramente avrà dei consulenti e degli strateghi aziendali che avranno fatto le loro debiti e valutazioni, altrimenti sarebbe follia pura. La tecnologia, il futuro, il fatto che anche certi tipi di governi, come il piccolo El Salvador, ma è semplicemente il primo della lista, poi in Centro America si stanno muovendo molto, perché hanno un problema ovviamente di valore legato alla loro valuta nazionale, e stanno guardando con grande interesse a Bitcoin, anche lo stesso Presidente del Salvador, quando è calato Bitcoin, come tu citavi, si è preoccupato di acquistare degli altri, non di venderli, quindi l'atteggiamento è quello di chi li mantiene in portafoglio, però un'ottica di medio-lungo periodo, un anno, due, ma anche più. Sì, ci sono due domande, cioè o meglio, un amico che scrive ancora più forte la correlazione record tra Bitcoin e le tech stocks, adesso ti lascio dire la tua, e poi un amico scrive, ed è un po' la domanda che ti volevo fare anch'io, cosa dovrebbe accadere perché il Bitcoin sia una moneta, possa essere una moneta stabile dopo più di dieci anni dalla sua nascita, cioè come l'investitore si può convincere che non deve avere paura? Io la semplifico molto, di fronte alle percentuali che leggiamo anche in sovrimpressione di perdita del valore in pochi giorni. Certo, no, allora, come dicevamo, Bitcoin è un asset digitale che rappresenta un qualcosa di estremamente nuovo nel mercato finanziario e come tale ovviamente deve essere compreso, un cambiamento non si evolve e non si risolve certamente in qualche anno, ma in un tempo più lungo. Neanche in dieci quindi? Ok. Neanche in dieci, assolutamente. Anche perché dobbiamo pensare che la vera storia, diciamo, dell'interesse intorno a Bitcoin possiamo dirla negli ultimi 4-5 anni perché prima era una cosa riservata più che altro agli addetti ai lavori, per cui non è che… E poi, diciamo, nonostante tutto c'è ancora un gap molto importante per quanto riguarda l'aspetto conoscitivo, formativo e l'atteggiamento che si ha nei riguardi ovviamente in generale di tutta la tecnologia, ma soprattutto in questo caso di un valore che per la prima volta è espresso in maniera digitale. Anche se per contraddizione le persone non si rendono conto che l'onbanking che utilizziamo con la banca quotidianamente sempre è di un valore messo in un computer, giriamola come vogliamo, cioè, voglio dire, è sempre relativo, no? Quello che noi possiamo pensare riguardo dell'aspetto digitale di un valore, no? Diciamo che purtroppo l'Italia rispetto al resto del mondo ha una crescita sicuramente minore perché c'è probabilmente una mentalità e un'apertura abbastanza diffusa nelle varie fasce d'età in maniera probabilmente ancora troppo diffidente ma soprattutto anche non c'è questa capacità di informarsi e di informarsi in maniera corretta non essendo condizionati dai media stream, dai giornali piuttosto che da televisioni, diciamo, note per informarsi sul bitcoin in maniera corretta quello che contano, come tu sai, sono i risultati i risultati sono quelli che abbiamo visto se poi vogliamo parlare di un'altra criptovaluta di cui abbiamo già parlato, di Shiba Inu Sì? Sei presente? Sì, certo Allora, ti do un dato del 2021 Vai Che chiaramente, tenetevi stretti e seduti comodi Ok, io sono seduta, vai Ecco, perfetto Shiba Inu Sì Nel 2021, dal minimo a massimo, ha fatto 100 milioni in percentuale Ok? Sì Sì, sì, no, infatti sono stata in silenzio perché volevo farti continuare ma insomma, è evidente, no? Ecco, dopo ovviamente è calato di almeno la metà, eccetera Però, voglio dire, è un dato pazzesco È un dato pazzesco Chiaramente, come ho detto nell'altra intervista era e rimane una scommessa Però anche il fatto stesso, per esempio, che è una notizia proprio di oggi Shiba Inu è entrato nel mercato metaverse Ok Quello praticamente in cui, come tu sai, Facebook Sì, 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 come no Ha cambiato il nome da Facebook a meta A meta, sì E come tu puoi immaginare, quando questi personaggi che hanno una rilevanza pesante dal punto di vista di presenza sul mercato anche di riferimento dei social, in questo caso non lo fa mai a caso C'è sempre un motivo, probabilmente, che hanno analizzato prima prima di fare questo passaggio Anche Shiba Inu è entrato in questo mondo Ovviamente, dove sarà, dove andrà a finire non si sa, ovviamente però, verosimilmente, potrà diventare un protagonista anche di questo nuovo mercato e magari anche il prezzo ne potrà nuovamente beneficiare Ha dimostrato che ovviamente non ci sono limiti in questo caso a ribasso perché altri tipi di criptovalute addirittura sono sparite però, ovviamente, bisognava sempre analizzare chi sono, cosa fanno, perché ci sono sempre per ragionare con i numeri, come abbiamo sempre fatto considera che oggi siamo arrivati a 17.135 criptovalute Mamma mia! A proposito, giusto per chiudere, a proposito di altre criptovalute un'altra che conosciamo ormai molto bene ma anche Ethereum è stata caratterizzata da ribassi importanti è la seconda criptovaluta per valore, vero? Confermi, Valerio? Ok, detiene, questi sono i numeri in mio possesso il 16% del mercato complessivo è scesa di oltre l'11% insomma, ha seguito un po' a ruota il Bitcoin anche se parliamo di due cripto diverse? Assolutamente diciamo che Bitcoin ovviamente condiziona molto il mercato come direzione, come sentiment, diciamo così il dato che ho io a disposizione è che Ethereum siamo al 17.5% di dominance e il 42.1% invece è il Bitcoin quindi il Bitcoin che era sceso in mercati più, diciamo, rialzisti è sotto il 40% adesso è rientrato oltre il 40% e viceversa Ethereum che era arrivato intorno al 20% adesso siamo al 17% per cui verosimilmente diciamo che l'interesse si è spostato più verso Bitcoin piuttosto che su Ethereum che fanno un po' il mercato insieme sì, sì, sì siamo intorno al 60% quindi insomma è tanta roba assolutamente sì assolutamente sì allora, allora, allora beh, direi che con questo abbiamo detto le cose fondamentali però, insomma, c'è l'amico peraltro che mi ha anche girato sai l'amico che ci scriveva della correlazione magari te la mando adesso io non riesco a mostrarla però ringrazio l'amico che mi ha mandato questo grafico in cui si mette in correlazione il Bitcoin correlazione record Bitcoin e tech stocks magari lo faremo vedere in un altro approfondimento sarebbe interessante fare proprio comparazione proprio perché Valeri lo dicevi anche tu spesso non si riesce a fare il salto di cui ti chiedevo io perché non si danno le informazioni in modo corretto non nel senso che altre persone danno le informazioni sbagliate ma spesso magari la spiegazione tu sei un divulgatore, un formatore quindi sai di cosa sto parlando come vengono esposte le notizie spesso anche mostrando delle comparazioni vedendo subito quello di cui si sta parlando si arriva prima al punto magari facciamo una cosa un po' più formativa la prossima volta se sei d'accordo così vediamo di andare in quella direzione intanto io ti ringrazio per averci un po' raccontato la situazione e a presto grazie a Valerio Rossi che vi aspetta sui suoi canali se volete saperne di più grazie mille per la collaborazione grazie, arrivederci a tutti alla prossima grazie 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 a tutti.